allora benvenuti a tutti e benvenuti appunto al a questo webinar del progetto fast transizione dell'ambito a transizione digitale e sapete che il progetto fast è un progetto che intende accompagnare i piccoli comuni in particolare diciamo per l'ambito a vuole accompagnare 285 comuni e piccoli comuni che hanno espresso e che hanno manifestato interesse a partecipare alle nostre attività alla realizzazione di alcuni di micro progetti proprio per la transizione al digitale quindi diciamo per osservare non solo gli addempimenti necessari in tema di transizione digitale ma proprio per realizzare anche diciamo servizi utili e di supporto per i cittadini delle vostre comunità abbiamo in precedenti webinar anche insomma raccontato e sappiamo bene diciamo qual è la situazione anche complessa dei piccoli comuni che comunque devono garantire alla loro comunità servizi comunque efficienti pur essendoci appunto anche risorse molto eh limitate comunque devono garantire gli stessi servizi quindi diciamo che eh questo progetto intende eh appunto darvi darvi una mano proprio in questo e come vogliamo farlo appunto dicevamo mettersi al passo cioè far sì che ciascuno di voi possa mettersi a passo con tutti gli addempimenti del tutti gli obblighi normativi previsti dal CAD dal piano triennale per l'informatica e eh come dire cercare di attivare delle dei micro progetti che possano diciamo portare il comune a a realizzare diciamo queste queste cose in maniera diciamo efficace ed efficiente ehm lo faremo diciamo questo con attività di supporto che appunto sono anche queste di anche di diffusione di competenze che sono queste che faremo con con questi webinar che insomma vi vi accompagneranno nel corso delle attività del progetto e poi lo faremo con delle task force eh che agiranno insieme con voi sul territorio e che appunto dovranno eh vi daranno una mano nella realizzazione di eh appunto micro progetti di transizione al digitale che insieme eh coprogetteremo anche sulla base di un assessment digitale che con voi sarà fatto non sarà l'ennesimo questionario che vi sarà posto ma sarà un'attività diciamo che si farà insieme proprio per capire a partire dalle esigenze di ciascuno di voi e di ciascuno dei vostri comuni diciamo come eh avviare le attività e quali sono le eh le priorità diciamo che che si devono insomma che si possono scegliere oggi eh questo venendo al webinar di oggi abbiamo appunto questo è un un terzo webinar i webinar si svolgono eh ogni due settimane il giovedì pomeriggio eh di solito alle ore quindici e ehm troverete le informazioni sul webinar che abbiamo realizzato il sedici marzo scorso eh le troverete online nella pagina territori rete in corrispondenza della notizia diciamo relativa a questo a questo webinar del sedici marzo dove troverete sia la registrazione del webinar quindi per chi di voi non avesse potuto partecipare così come tutti i materiali che sono stati messi a disposizione dai relatori e lo scorso webinar appunto abbiamo affrontato eh la questione dell'appunto come diciamo coinvolgere maggiormente i cittadini digitali e perché diciamo anche un piccolo comune dovrebbe occuparsi di di questo e e diciamo come anche far capire diciamo ai cittadini quali sono i vantaggi del eh dell'attivazione di strumenti del digitale perché magari spesso come dire vengono realizzati perché è necessario è un adempimento ma poi non c'è eh un'adeguata partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini anche nel nella scelta eventualmente di di priorità o comunque nell'uso insomma anche nell'alfabetizzazione dei cittadini e oggi invece affronteremo diciamo abbiamo il ciclo di webinar è stato deciso anche con voi sulla base di un sondaggio che è stato fatto eh credo due webinar fa e sono stati scelti una serie di temi il prossimo webinar sarà eh sulla eh gestione documentale e lo faremo in il venti aprilio prossimo intanto eh comunque eh vi daremo insomma conferma con le solite notizie con le soliti link alle risoliti inviti oggi eh che cosa affronteremo il il dottor Harris e altri due colleghi dottor Spano e il dottor Franco Bruno eh ci parleranno e ci racconteranno appunto qualcosa sui sulla realizzazione di servizi online e sulla modalità diciamo di eh gestire e organizzare eh servizi diciamo che portino istanze digitali, istanze online quindi eh uno degli elementi centrali proprio per diciamo rinnovare eh rinnovare gli enti e dare nuovi servizi cittadini eh Harris che appunto è un esperto di transizione digitale nostro consulente sul progetto FAST è stato appunto direttore generale del comune di Sassari nonché amministratore unico della Sardegna IT che è l'azienda diciamo che il CT eh partecipata da della regione Sardegna eh il dottor Spano è stato ex assessore del comune di Nuoro e ci porterà l'esperienza fatta dal dal comune proprio su questo tema e così come il dottor Bruno invece che è un responsabile dei servizi di polizia locale di sportello civile e dell'attività del servizi informatici ci parlerà proprio di un'esperienza fatta da un piccolo comune e in particolare dell'unione dei comuni del Fossanese che sono in provincia di Cuneo nella regione Piemonte quindi eh detto questo direi passerei ecco tutte non 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 ci sarà bisogno potrete alla fine fare le domande diciamo rimaniamo con una sessione diciamo aperta alla fine delle delle relazioni eh per le domande se vorrete comunque potrete farle anche diciamo nel nel corso della del racconto della narrazione dei nostri relatori e le potrete indicare qua in chat per quanto riguarda sia la registrazione sia tutti i materiali saranno messi a disposizione diciamo a chiusura del webinar e eh saranno appunto nella solita pagina territori in rete eh in corrispondenza della notizia del webinar di oggi quindi io mi taccio e lascio la parola al dottore Harris. Buongiorno a tutti adesso un attimo e condivido lo schermo. Ecco oggi come ha detto Irene Torrente parliamo dei servizi digitali per il cittadino. Qui stiamo parlando fondamentalmente del bando per la misura uno quattro uno e l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. quel bando come sapete è composto di due elementi. Uno è l'adeguamento del sito web del comune e l'altro componente è la realizzazione delle dei servizi online, delle istanze online. Quello che vedete qua sono i riferimenti documentali e anche il bando stesso che lo utilizzerò per discutere questo processo. Quando parliamo di servizi pubblici come il design guide ci dice è un processo amministrativo, serie di passaggi sequenziali avvolti in parallelo e quando alcuni di questi si può fare online sono i servizi digitali per il cittadino. Due settimane fa mio collega dottor Fuglieri ci ha lasciato con questo tipo di slide in cui ha detto il cittadino si trovi davanti a un certo servizio a dubbi e noi dobbiamo rispondere a quelle domande. Dove trovo l'informazione? Come riceverò feedback dal comune su a che punto è la mia pratica? Se c'è da pagare dove pago? Come faccio un reclamo? Eccetera eccetera. Quando una pratica online è fatta secondo quanto previsto dal bando, tutti questi domandi vengono, trovano una loro risposta. Oggi voglio farvi vedere la logica della costruzione di una pratica passo per passo in modo che sia chiaro a tutti come viene fatta. Inizia così. C'è un cittadino che vuole fare un pratico online, va sul sito del comune e cerca questo servizio. Può essere fra servizi o servizi online, ma si inizia collegandosi col sito del comune. Tra i servizi dovrebbe trovare un elenco dei servizi e fra quelli troverà quello che gli interessa. E la prima cosa che deve trovare è la cosiddetta scheda informativa. Quindi questo è dove si descrive il servizio che vogliamo dare al cittadino. Quindi c'è per ogni servizio online c'è una scheda informativa che i requisiti, i costi, la normativa, i documenti da presentare eccetera eccetera eccetera. E più di quanto posso mettere in un solo schermata. E dal servizio, da questa scheda di servizio, deve essere possibile di accedere al servizio online. E quindi l'utente clicca su questo accedere al servizio online. E passiamo alla seconda parte. Per accedere al servizio, e come vedi, questa freccia in blu, voglio usare questo per indicare il flusso del processo. Prima di arrivare al vero e proprio servizio, te la devi collegare tramite SPID o la carta identità elettronica. Ci sono diversi tipi di SPID per il cittadino, per la persona giuridica, l'impresa, per il cittadino estero. Non è il momento di entrare in questi dettagli, ma fondamentalmente si collega col SPID. E una volta che l'utente è collegato col SPID c'è una cosa importantissima da notare. I dati che SPID contiene nella sua base dati per ogni persona che ha un identificativo SPID viene restituito a questo processo del comune. Quindi i dati sono passati al prossimo step. E questo realizza quel principio fondamentale per i servizi digitali è il principio una tantum. One time only, ovvero se noi, pubblica amministrazione, e attenti a qualsiasi pubblica amministrazione, ha questi dati per un utente, io al comune non devo chiedere una seconda volta questi dati. Quindi questa è l'interoperabilità fra le basi dati del comune e basi dati nazionali. Quindi questi dati vengono passati e l'utente vede un cruscotto che è composto di due elementi. C'è un elemento in cui si vede l'elenco delle possibili istanze che può essere avviati. Quindi voi vedete questo elenco moduli disponibili per contesto e noi abbiamo servizi demografici, cimitero, commercio, cultura, patrimonio, scuola, eccetera, eccetera. Quindi questi sono l'elenco di tutte le possibili istanze che un utente può avviare. E poi abbiamo il cruscotto vero e proprio del cittadino, quello che vedete qui sulla destra, in cui si vede l'elenco di tutte le istanze che sono già state avviate dall'utente. Vedi quando è stato avviato, in che stato è, se c'è da pagare, se è chiuso, se è in corso. Torneremo su questo cruscotto più tardi, perché è un elemento fondamentale. Adesso l'utente scegliere un'istanza. Voglio compilare, voglio avviare questa pratica. E ancora pausa, perché c'è un consenso sul trattamento dei dati, privacy, le autorizzazioni, e così via. In questo caso ci vedi tutti i dettagli. E in quel momento, se gli utenti vogliono andare avanti, deve dare il suo consenso. Quindi, senza dare consenso, ovviamente non si può completare la pratica. Una volta che l'utente fornisce il consenso, si vede la pratica vera e propria. E notate, in questa pratica, in alto sulla destra, vediamo i dati dove c'è scritto nome, cognome, codice fiscale, eccetera, eccetera. Questi dati che sono stati forniti dal SPID. Questi non sono modificabili, sono tutti i dati che SPID ha restituito al nostro sistema informativo locale, quello del comune, e dice, ok, David Harris con questo identificativo, questo login e password, si è collegato al SPID. Questi sono i suoi dati. Questi sono fissi. Adesso l'utente comincia a compilare i suoi dati della pratica. In questo caso ho preso per caso una pratica un po' di felici, chiede l'assegnazione di un loculo o un ossario. Siccome già compilare, sono il diretto interessato, rappresenta l'interesse di qualcuno, la salma delle persone, compilo tutti i dati. Una cosa che vorrei sottolineare qua è che una nuova istanza che viene compilata tramite questo tipo di form online non deve essere una mera duplicazione della modulistica cartacea. Quella modulistica va ripensata perché è online e potete fare cose che non potevate fare quando è cartacea. Dovete studiare la sequenza delle informazioni cercando di minimizzare il lavoro dell'utente quando lo compilo. E questo è molto più facile online. Quindi si compila tutto. I dati dell'istanza, una volta che si conferma questo, vengono inseriti nella base dati delle istanze. Questa è una base dati locale, base dati del comune. Quindi dico che David Harris ha compilato questa modulistica in queste date e ha inserito tutti questi dati. Quella base dati può essere integrata con le altre basi dati nazionali. Perché questa base dati locali? La logica è sempre quella dell'unitantum. Ovvero, se io, cittadino, impresa, devo periodicamente ricompilare la stessa istanza. Ad esempio, qui a Sassari, io parlo di Sassari, ogni anno per rinnovare, mi ho permesso di passare in macchina nella zona traffica limitata, io devo ricompilare un'istanza, dicendo che sono sempre residenti in questa zona e quindi vorrei essere otterizzato. Quando è sulla carta, a me devo compilare ogni anno ex novo tutta la carta. Online, nel prossimo anno, quando mi collega e apro questa pratica nuova, dovrebbe essere già precompilato con tutti i dati che l'ho messo l'anno scorso, che ho inserito l'anno scorso. E quest'anno devo solo modificare i dati se ci fossero dati da modificare. Ok? L'idea è che non devo compilare ciò che è già presente. Stiamo cercando di minimizzare il lavoro dell'utente. È un po' quando il modello è molto quello dei servizi bancari online. Quando io vado a compilare un nuovo bonifico, quasi tutte le banche, i sistemi di home banking mi chiedono, vuoi usare un bonifico precedente come esempio? Vuoi richiamare un precedente bonifico? Io dico sì e non puoi, non devo richiamare il nome e l'Iban e tutte le altre informazioni del ricevente. Devo solo decidere quanto è il valore di questo bonifico. Ok? Quindi stiamo cercando di minimizzare i dati che vanno inseriti. Quindi questo significa anche minimizzare gli errori e semplificare la vita del cittadino. Allora, quando abbiamo compilato questi dati, il prossimo… Ok, ho già spiegato. Oh, questa base di dati, scusate. Oltre ad essere una fonte di informazioni per precompilare gli stanzi nuove. Potete usare in comune queste stesse basi dati per analisi non legate strettamente alla singola pratica, ma io faccio un concorso in comune. Io posso scaricare tutti i dati inseriti dai partecipanti, per esempio i titoli, e calcolare in un foglio Excel e calcolarli automaticamente. posso semplificare il lavoro dei dipendenti del comune per questi calcoli. Poi posso fare l'analisi statistica, quanti informazioni, quanti richiesti di un certo tipo sono state fatte e questo semplifica il reporting verso la regione o il governo. Quindi questa base ti semplifica la vita e non dà poco. Ok. Ho compilato. Qui sto finendo di compilare tutto quanto. È arrivato il momento di pagare. In questo caso, in questo sistema in base, si vede le diverse possibili. Io ho scelto se voglio la tumulazione in prima classe, se voglio l'occhio avanti, alto, basso e così via. E il comune, con sua delibera, ha deciso le tariffe per ogni tipologia. Quindi, adesso dovrei avere la possibilità, compilata l'istanza, sono pronto ad inviare, ma prima che il comune comincia a lavorare, la devo pagare, forse in questo caso, la devo pagare. E ci sono due tipi di pagamenti. Tutti sempre telematici, sempre online. Uno con Pago PA e questo, uno con il bollo, il bollo telematico. Comuni, se non l'avete già fatto, mi raccomando, inserite il collegamento con il bollo telematico. Per il semplice fatto che, a prescindere del numero di pagine, lunghezza, complessità del documento, il fisco chiede un'unica marca da bollo di 16 euro. Il cittadino risparmia soldi. Non è più necessario avere due marche di bollo o anche di più. Con il bollo, un pagamento di 16 euro è sufficiente a prescindere della pratica. Quindi, in questo caso, io ho il mio modulo è in bozza. Non è ancora confermato, perché in questo caso devo ancora pagare. E vedete in basso adesso che c'è una nuova pratica. Posso vedere il mio carello delle spese. Posso scaricare la pratica, vedere, avere una copia in PDF. Posso cancellare. È ancora da pagare. Faccio il pagamento, vedo il carello, mi dà i codici, eccetera, eccetera. In questo caso dice devo pagare 1684 euro per questo servizio e notabene posso pagarlo immediatamente con Pago PA o posso stampare l'avviso di pagamento, pagare offline in uno dei veri punti abilitati e poi caricare la ricevuta. In questo caso dico no, voglio andare direttamente in Pago PA, ce l'ho tutto. Se procedo qua, se confermo e vado avanti, mi porto dentro dove Pago PA mi dice bene, lo fai con bonifico, con carte di credito con questa banca o quella banca e pago. Per la sicurezza e per il fatto che non volevo spedere 1684 euro, ho cancellato la pratica a questo punto. Ma se andiamo avanti, avrei pagato con ebolo. In questo momento, dopo aver fatto il pagamento, vieni preso in carico dagli uffici dati del comune. Quindi sulla sinistra vediamo le cose dal punto di vista dell'utente. Ma adesso inizia il lavoro del comune e quello che vediamo è che il pratica è preso in carico dal comune. Quindi i dati inseriti dall'utente, i dati SPED più tutto quello che è stato compilato dall'utente, i dati di pagamento, eccetera, sono agganciati e integrati con il sistema di protocollo. Tipicamente si trasforma quell'istanza, quella forma online in un documento PDF che viene protocollato. Quel documento PDF e oppure solo i flussi dati inseriti dall'utente, con i dati di pagamento, vengono trasmessi all'ufficio che deve gestire l'istanza. Quindi se è una sanzione per la ZTTL, va alla polizia municipale. Se è una cosa per i servizi sociali, va da loro. Quindi loro, gli addetti del comune, dell'ufficio che deve gestire l'istanza, ricevono la segnalazione che c'è una nuova pratica che è stato, questi sono i dati e il protocollato si inizia oggi e loro lo prendono in carico. Quindi quando l'ufficio prende questo incarico, a quel punto deve informare l'utente che la prima fase, cioè la compilazione e la presa in carico, è andata a buon fine e il comune può fare questo in tre diversi modi, può informare il richiedente in tre diversi modi. Uno è obbligatorio e qual è l'inserimento di questo messaggio nel cruscotto del richiedente e due sono opzionali ma consigliati. Tramite l'APIO, come sapete c'è un altro bando, PNR, per la creazione di messaggistica con l'APIO. Qual è una modalità? Un'altra modalità, come dicevo, è l'inserimento nel richiesto utente, questo cruscotto utente e si vedono le diverse cose, le modifiche, se sono chiusi, salvati, in attesa di qualcosa e infine volendo un'email. E qui vediamo un esempio di un'email, dice modulo, inviate il modulo segnalazione, modulo presente negli allegati, file, bla 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 e così via. E c'è un modulo per tutto questo. Ok. A questo punto, il nostro utente è stato informato che sue istanze è ricevuta dal comune, è stato protocollato e preso in carica. Quindi ha ricevuto la conferma dal sistema. Adesso l'utente dal suo cruscotto ha la possibilità di valutare il servizio ricevuto finora. Infatti l'utente viene invitato a visitare quel cruscotto anche periodicamente per verificare lo stato di avanzamento, che significa che man mano che gli uffici del comune elaborano la pratica dovrebbero far sapere all'utente a che punto è e si fa sapere sempre attraverso obbligatoriamente il cruscotto e optionalmente con email o messaggistica di API. Quando diciamo che l'utente può valutare, vediamo cosa significa. Valutazione non è affatto banale. È considerato un elemento molto importante e i vostri fornitori devono creare per voi questo servizio. Fa parte quello che deve fare il fornitore e creare questo spazio per valutazione. Lo può fare in una forma descrittiva e in forma grafica sintetica. Le famose facce sorridente o arrabbiata o neutra. Ok? Devi poter scegliere. E ci sono una serie di passi. Quindi quando entro quanto è stato facile usare? Sono contento? Sono non contento? Se non va bene dove hai avuto problemi? E così via. È un percorso guidato per capire se è andato tutto bene. Se non è andato tutto bene. Perché non è andato tutto bene? I fornitori devono creare questa possibilità. I risultati vanno inseriti nella base dati. Il comune ha l'obbligo. Il comune dovrebbe periodicamente guardare questi insiemi di valutazioni per vedere se i cittadini siano soddisfatti o meno con i servizi che stanno ricevendo. E se un particolare istanza ha valutazioni negative vuol dire che va rivisto, va visto se può essere migliorato, ottimizzato, semplificato. La valutazione non è affatto secondario nel nuovo percorso. Può darsi che durante l'elaborazione il comune dice manca qualcosa, c'è un altro documento, mi serve più informazioni. In quel caso si mandano i messaggi, come abbiamo già detto, obbligatoriamente sul cruscotto, meglio se anche mandati verso APO e post email dicendo guarda, caro cittadino ti invito a fornire queste ulteriori informazioni, manca questo e così via. E a quel punto si riparte da questo passo cinque in cui cittadino ovviamente si collega col SPID, si inserisce i dati mancati, gli allegati o nuovi dati, si correggere le cose, paga e così via e si riparte. Quindi ecco perché il cittadino viene invitato a tenere sotto occhio anche questo cruscotto. Ad un certo punto il processo si conclude. Tutti i dati che erano necessari sono stati forniti e o in un modo o l'altro va a fine o a buon fine o è rifutato dal comune, ma in qualche modo questo processo si conclude. I dati sono stati salvati nella base dati, ve lo vediamo nella casa precedente e il comune inserisce i suoi dati nella stessa base dati di questa pratica e il processo si conclude. Questa è la logica complessiva, questi otto passi, devo dire la verità, Aged li ha diviso in nove, dividendo questo passaggio sette in due, riceve e conferma visitare l'area. Otto o nove passi, ma la sequenza è quella che vedete. Questa è la sequenza logica di un'istanza. Questa è quella che viene chiesto con i servizi digitali. L'Aged ha fatto una cosa molto interessante. Nella misura 141 hanno definito un cosiddetto pacchetto per il cittadino attivo e hanno individuato 26 istanze che possono essere oggetto di realizzazione. Infatti, per comuni di vostra dimensione, il bando prevede che puoi avere un massimo di quattro servizi finanziati, quindi quasi 13 mila euro per ogni servizio. Non è male, sai, sono un bel po' di soldi per quattro servizi. L'Aged poi ha raggruppato queste 26 istanze in cinque categorie e sono abbastanza semplici. Dice, c'è una categoria chiamata permesse e autorizzazioni. Va bene. Io voglio il permesso per entrare nella zona traffico limitato o richiedere un contrassegno per un parcheggio per gli invalidi e così via. Quindi istanze presentate dal cittadino che prevedono il rilascio di un permesso. Poi la graduatoria, iscrivere il figlio alla scuola dell'infanzia, partecipare ad un concorso per diventare dipendente del comune. Servizio a pagamento, servizio di mensa, quindi devo pagare un flusso per vantaggi economici, un assegno di maternità. Spesso queste sono cose che vediamo con i servizi sociali. E poi i pagamenti dovuti, istanze che è un onere senza però l'erogazione di un servizio. Devo pagare un canone per l'amba dei votini. Quindi queste sono le cinque categorie e in ognuna di queste categorie l'Agid poi ha definito una serie di potenziali istanze. Quindi qui è il tipo di permessi, pagamenti, vantaggi economici. Qui sulla destra vediamo queste cinque categorie e vediamo diversi servizi. Quindi richiedere permesso parcheggio, pagare un tributo, richiedere agevolazioni. Quindi per ognuna tipologia l'Agid ha definito un'istanza tipica, anzi più di un'istanza tipica per ognuna. Ha definito classificando queste 26 istanze per il cittadino in queste cinque tipologia di flusso. Adesso arriviamo a cosa devono fare i fornitori e poi cosa deve fare il comune. Noi abbiamo detto la predisposizione del sistema delle istanze del sottocomponente del sito web che comprende le istanze che si possono attuare, il cruscotto del richiedente, la possibilità di valutare, l'integrazione con Pado, PA e Bollo. Questi devono essere messi in piedi dai vostri fornitori. L'Agid considererà questo sistema collaudato quando 20 criteri di conformità sono stati soddisfatti. Poi ci sono sette raccomandazioni che non sono oggetto di verifica ma rimangono valido. Questi potete controllare voi per vedere se i vostri fornitori stanno facendo il minimo o se stanno facendo anche quelle attività che sono consigliabili, danno un migliore servizio al cittadino. Quando dicono che devono realizzare in conformità con le specifiche dell'Agid, cosa intendo? Non è complicato. Agid fornisce un'app, un pezzo di software che verrà utilizzato per l'asseverazione e la verifica tecnica del sistema. Voi stesso, ogni comune, voi potete scaricare questa app dal cittadino, dal sito del PA digitale. Voi stesso, se avete competenze in-house o se avete consulenti esterni, potete utilizzare questo software, che è esattamente quello che usa l'Agid, e potete fare le verifiche autonomamente. Agid dice molto chiaro che tutti i risultati del report generato dall'applicativo vengono superati. Quindi, l'Agid è molto, molto, molto trasparente in quali sono le cose che verranno controllate, mette a disposizione di tutto, ai sviluppatori, al comune, a tutti i soggetti interessati, un'app che valuterà se superi i criteri di conformità. Quando il fornitore dice, ho superato, ho predisposto un sito, come deve essere fatto, il fornitore comunica all'Agid, e ovviamente al comune, e dichiara la conformità del progetto. Vediamo un esempio di cosa è il checklist di asseverazione che farà Agid. è abbastanza semplice, dice, nel sito comunale le schede informativi mostrano le voci segnalate, quindi costi, requisiti, documenti allegati, collegamento al servizio online, eccetera. Cosa si usa per verificare questo? Beh, il sito del comune, e quello che loro chiamano crawler, è l'applicativo software che in automatica fa queste verifiche. Quindi, è sempre questo. C'è un elemento dove si può prenotare un appuntamento online, vostro fornitore vi deve dare il software, e fa parte, dove un cittadino dice, io vorrei prenotare un appuntamento per avere la carta d'identità, voglio prenotare un appuntamento con i servizi sociali, con questo e con quello. E a quel punto deve essere ovviamente la possibilità di vedere i giorni, le ore, la disponibilità del sito, e uno prenota un appuntamento. Ci devono avere la possibilità di avere le schede di servizio, eccetera. Sono molto chiari, molto straightforward. Ci sono un'area del sito per le domande più frequenti, e attenzione, non prendete le domande più banali, prendete, voi potete aiutare, perché è senza dubbio che il fornitore vi darà una serie di domande tipici, FAC, ma anche senza dubbio che questi saranno, come dico, tipici, standardizzati, forse non hanno nulla a che fare con i vostri comuni, forse avete problematiche diverse, potete molto arricchire questi FAC. Deve avere la possibilità di segnalare un disservizio, e così via. Esperienze di valutazione dell'uso, ci sono le vere cose, molto, molto chiara. C'è l'informativo per il trattamento dei dati personali, c'è una dichiarazione di accessibilità, e così via. Questo non è l'elenco di tutti, ma questo è tipico, ok, di quello che viene controllato. In uno dei documenti che ho citato all'inizio, c'è l'elenco di tutto. L'agile con totale trasparenza ha detto, esattamente come vedete qua, uno per uno, queste sono le cose che verificheremo, questo è come lo verificheremo, e così via. È molto semplice, è molto lineare. Ogni comune può fare da solo questo, anche per monitorare continuamente i fornitori. Quali sono le altre cose che devono fare i fornitori? Beh, non sono tanti, loro devono lavorare, hanno tanto lavoro da fare, ma devono garantire che questo sito e i servizi siano disponibili in tanti formati. Questo è mobile first, quindi non è solo predispori tutto per il mio PC. Deve essere comprensibile, semplice, facile di caricare anche da un tablet e anche da un cellulare. Queste istanze devono avere la possibilità di realizzarli in tutti questi formati e dovrebbe essere automatico. Realizzandolo per il PC, il sito deve essere in grado automaticamente di trasformare quello in un formato per un altro canale, canale tablet e quello del cellulare. E infine, questo è importantissimo, deve insistere che i vostri fornitori vi mettete in grado di realizzare nuove istanze, nuovi servizi autonomamente. Vi devono dare gli strumenti per realizzarli, la documentazione e la formazione. Perché il fatto è che i comuni hanno una serie di cose che loro devono fare. E cosa deve fare il comune? Beh, come abbiamo visto, il sistema di front office, quindi questo cruscotto dei richiedenti, la lista delle istanze stesse, eccetera, devono dialogare e condividere l'informazione con tutti i sistemi di back office. I dati vengono passati al protocollo e dati in pasto agli uffici del comune, che l'usano nei loro applicativi gestionali. Poi, man mano che il comune va avanti, deve trasmettere i dati al front office, dicendo stato di avanzamento e così via. È evidente che il front office, il sistema di gestione delle istanze, dei servizi digitali, e il back office, il software applicativo gestionale, tributi, eccetera, eccetera, devono dialogare e il comune dovrebbe, deve assicurare, che i relativi fornitori del front office e del back office assumano la responsabilità per garantire questo processo, senza poi dire al comune, ma io fornisco solo le istanze, l'integrazione col back office e la responsabilità dell'altro fornitore. E il fornitore del tributo gestionale dice, ma no, io ce l'ho mio, il front office deve dialogare con me. Voi comuni dovete contrattualmente assicurare, se avete un unico fornitore, non c'è nulla da assicurare perché ci pensi il fornitore, ma se avete diversi fornitori di front office e di back office, è fondamentale assicurare che questi fornitori sanno che devono loro garantire quelle integrazioni senza venire al comune a fare storia, a chiedere soldi, a chiedere complessità. Devono risolvere loro questo problema, non gli addetti del comune. L'altra cosa che devono fare, comuni, deve recepire gli appuntamenti prenotati online, quindi è un appuntamento prenotato online, manda un messaggio al, che ne so, all'edetto dell'anagrafe dicendo, guardi qualcuno ha preso un appuntamento per questo martedì pomeriggio, l'edetto dell'anagrafe deve ricevere questo e organizzarsi per ricevere l'utente. Deve recepire le segnalazioni di disservizio, deve gestirli, non deve arrivare una segnalazione di disservizio e cade nella nulla, deve andare all'ufficio che deve gestirla e poi informare l'utente, l'abbiamo preso in carico di disservizio e lo stiamo gestendo, guardi, è andata a buon fine. C'è un buco nella strada, lo dobbiamo perimetrizzare il buco, lo dobbiamo riempire il buco e così via. Quindi la deve gestire e questo vuol dire organizzarsi per recepire questi problemi. Devono compilare le schede informativi dal servizio, all'inizio di ogni servizio online c'è la scheda informativa, devono analizzare i risultati delle valutazioni dell'utente in modo che neanche loro vanno al vuoto, devono monitorare le metriche di ingaggio. E infine, forse la cosa più importante, i comuni non devono fermarsi avendo realizzato le loro cinque istanze per avere i soldi, i 13.000 euro per istanza pagata dal PNR. I comuni devono rispettare il concetto di digital e mobile first e quindi dovranno progressivamente creare versioni online sia per le istanze già esistenti che per le nuove esigenze. Non si finisce con cinque. Ecco perché dico che i fornitori dovrebbero mettere gli addetti del comune in grado di realizzare autonomamente nuove istanze, dandogli la giusta formazione, documentazione e strumenti. È un punto che vorrei chiudere e dire il fatto che un'istanza è digitale non significa che non può anche essere cartacea. E noi sappiamo bene che ci sono alcuni tipi di istanze dove l'utente avrà difficoltà di compilare i dati online o perché non ha accesso al computer o non ha la scolarizzazione adeguata per usarlo. Questo si vede spesso con i servizi sociali. I loro utenti spesso hanno problemi a compilare la modulistica. Quindi la presenza del servizio in formato digitale non esclude la possibilità di mantenere quella stessa istanza in formato cartaceo. Ma è digital first. Prima il digitale e poi cartaceo. Questa è la grande sfida e il grande cambiamento che ci aspetta. E con quello lo chiudo e vi ringrazio. Grazie David del tuo interessante intervento. Chiedo appunto a chi è collegato se appunto avete anche domande diciamo sulla relazione di Harris e su appunto la prossima. Cominciate pure a scrivere in chat in maniera insomma che poi si possa anche tarare il tempo insomma per darvi qualche risposta perché immagino insomma le curiosità siano tante e anche i suggerimenti dati insomma posso penso che possano essere di stimolo. Darei a questo punto la parola a Filippo Spano che appunto ci racconterà come l'amministrazione di Nuoro si è appunto adoperata per garantire diciamo questi servizi digitali e per accompagnare i cittadini in questa nuova esperienza. Prego. Eccomi, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Formex per questa opportunità per poter parlare da un punto di vista diverso rispetto a quello che ha tenuto David Harris poco fa ma di fatto complementare rispetto all'esperienza che abbiamo condiviso al Comune di Nuoro negli ultimi due anni a partire dall'avvio di un nuovo mandato che è stato nel 2020, alla fine del 2020 quindi di fatto all'inizio del 2021 abbiamo ragionato sulla nostra abilità iniziamo a usare questo termine abilità come amministrazione nel rispondere alle sfide che non sono solamente quelle poste dall'Agit come si diceva e dal PNRR attualmente ma che sono le sfide di un Comune che aveva necessità, sicuramente necessità di perseguire una serie di obiettivi e di perseguirli avendo sempre in testa che il nostro cliente, i nostri clienti sono prima di tutto i cittadini e poi sono anche tutta una serie di altri soggetti di cui parlerò più avanti che fanno parte di una comunità quindi due concetti primo quello dell'abilità secondo quello della comunità io personalmente ho avuto l'opportunità e la fortuna di recitare un ruolo come politico anche se vi devo dire la verità che normalmente mi occupo di sviluppo locale di programmazione strategica l'ho fatto sia nel campo privato che nel campo pubblico e ho avuto anche la fortuna di incrociare più volte sia diversi colleghi del Fornez che sono protagonisti di questa attività di questo programma che in particolare David Harris di che cosa parliamo prima di tutto intanto parliamo dell'esperienza abilitante noi l'abbiamo chiamata così per garantire un accesso digitale e un accompagnamento ai servizi ai cittadini il titolo è questo però prima bisogna che ci capiamo per dire se per l'appunto come accennavo prima i processi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche devono essere dei sistemi semplicemente formali di adeguamento per garantire un po' di trasparenza oppure se devono dare effettivamente la possibilità ai cittadini di essere cittadini tra virgolette di serie A sia a prescindere così come dice la Costituzione all'articolo 3 la Repubblica deve garantire il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza ai cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e questo deve avvenire sia rispetto alle condizioni al genere ai luoghi ai territori all'età quindi all'anagrafe alle condizioni culturali e di istruzione dobbiamo cercare di fare in modo che i servizi digitali possano rendere il cittadino abile anche se non ha particolari attitudini io personalmente non sono un informatico credo che la maggior parte di noi non lo è ho visto anche l'elenco dei partecipanti a questo webinar alcuni sono RTD quindi hanno competenze specifiche ma anche a volte tra gli RTD non si hanno specifiche competenze di carattere informatico ma tutti devono essere messi a seconda delle loro esigenze nelle condizioni e quindi nella abilità specifica che è la capacità di svolgere un'attività un'azione specifica rispetto a dei propri interessi quindi di che cosa parliamo? Noi ci siamo posti delle domande abbiamo cercato di darci delle risposte nel momento in cui abbiamo fatto un programma di mandato e l'abbiamo fatto badate bene questo lo dico perché il programma del progetto FAST è destinato ai piccoli comuni uno potrebbe dire ma insomma il comune di Nuro ha 35.000 abitanti un'organizzazione comunque da comune e capoluogo la realtà è che le stesse domande si pongono ad ognuno e in fondo il senso delle risposte deve essere deve essere lo stesso penso all'intervento che è stato fatto in un precedente Wayne Virar da Michele Vianello soprattutto relativamente alla capacità di adeguare la propria organizzazione o di essere adeguati rispetto alle domande che ci sono e in questo vedremo almeno dal nostro punto di vista molte delle risposte devono essere comuni e non dividono i comuni medi rispetto ai comuni piccoli di che cosa parliamo? dicevo insomma noi ci siamo fatti una serie di domande dicevo e le abbiamo cercate di dare delle risposte secondo un concetto politico e di organizzazione così come dovrebbero fare gli enti locali cioè lavorare sugli obiettivi generali sugli obiettivi strategici partendo dal programma di mandato interrogarci su chi sono gli alleati su cui potevamo e possiamo contare rispetto a questa strategia i punti di partenza e quindi esaminare obiettivamente come era la situazione del comune e iniziare a lavorare per offrire servizi accessibili che quindi vadano oltre le diseguaglianze che connotano evidentemente tutti i cittadini e porsi anche il problema però di abilitare i cittadini ma creare anche una cultura orientata alla trasparenza orientata all'abilitazione orientata al digitale tra tutti gli operatori ma allo stesso tempo anche alla società che ci stava e che ci sta intorno che vuole dire il il privato vuole dire le altre la collaborazione con le altre associazioni vuole dire la cooperazione tra istituzioni e in primis tra comuni quindi abbiamo cercato di ragionare nella nostra programmazione pensando di mobilitare la comunità nel suo senso più completo perché la complementarietà in questo caso aiuta diventa una opzione strategica e in fondo ha iniziato anche a dare alcuni risultati e quindi sentirsi comunità per cooperare per mettersi tutti a disposizione di un obiettivo comune troppo spesso a me è capitato anche di fare l'amministrazione a livello regionale troppo spesso si lavora per silo se non è solo un problema delle organizzazioni dell'amministrazione pubblica ma nel pensiero delle persone nel pensiero delle comunità che in fondo alla fine me la cavo da solo e comunque perdo più tempo nella cooperazione che nella risoluzione o nell'ipotetica risoluzione dei problemi in maniera diretta vorrei sottolineare al punto 12 il problema degli inciampi non esistono perfezioni non esistono per nessuno esiste soprattutto in questo sistema e in questo campo una modalità un approccio al lavoro che pensa che gli errori possano diventare delle opportunità quindi vi farò degli esempi non cercherò di glorificare l'attività che abbiamo fatto che però ha avuto determinati risultati ma il processo il cosiddetto processo di transizione digitale è un processo di apprendimento collettivo in particolare dagli errori quindi noi ci siamo interrogati prima di tutto che tipo di città volevamo nel momento in cui abbiamo attivato un programma di mandato abbiamo cercato di attivare una visione generale del nostro sistema e abbiamo immaginato di ridefinire una città per dotarla di tutte le opportunità e di un sistema urbano moderno vivibile sostenibile in collegamento con i principali centri di servizi avanzato ma anche che collabori con i comuni dell'area vasta e dia a tutti pari dignità servizi e opportunità di conseguenza ci siamo mossi quindi da un intervento di carattere preeminentemente politico con gli strumenti che tutti conosciamo che sono il programma di mandato successivamente il documento unico di programmazione è a cascata oggi il Piau abbiamo ragionato per un'organizzazione secondo un criterio di efficienza cioè ci siamo posti un problema di mettere al primo posto e quindi anche nella programmazione strategica nella determinazione delle priorità strategiche quella di un'efficienza digitale che fosse centrata sui bisogni del cittadino e sulla crescita culturale degli amministratori conseguentemente abbiamo adottato i principali strumenti della programmazione che in questo caso ma se ne è già parlato abbastanza sono il piano triennale per l'informatica il piano triennale dei fabbisogni di risorse umane è quello della formazione ecco qua gli alleati gli alleati sono molto importanti ne accennavo prima non esiste un sistema che possa risolvere in sé tutte le cose ma deve coinvolgere tutti i soggetti che direttamente o indirettamente hanno una come dire dei bisogni oppure hanno delle cose da dare adesso faccio un esempio rispetto all'approccio che abbiamo utilizzato per quanto riguarda il comune di Nura interpretato e poi vi dirò come come il centro dell'area vasta di Nura perché è un comune capoluogo spesse volte si dimentica questo questo elemento è un comune che è un comune che di fatto offre servizi a tanti altri comuni e la soluzione la migliore possibile di questo dilemma organizzativo e logistico poi può diventare anche la soluzione per esempio per combattere il disagio delle zone interne il disagio delle zone montane perché bisogna avvicinare il più possibile i servizi a tutti e non tutti possono dare lo stesso lo stesso tipo di servizi quindi se hai una riflessione di questo genere se fai una riflessione di questo genere ti poni il problema dei cittadini della tua città ma ti poni anche il problema dei cittadini di tutte le città con termini ma questo comunque è un elemento che non deve interessare solamente le città capoluogo in generale dovrebbe interessare tutti gli enti locali faccio riferimento per chi molti di voi l'hanno visto l'interessantissimo intervento di Michele Vianello relativamente alle modalità di organizzazione per i piccoli comuni sul digitale che alla fine tirava delle conclusioni chiare ed evidenti da questo punto di vista da dove siamo partiti da dove siamo partiti siamo partiti dalla programmazione generale ve l'ho detto sulla programmazione generale nel giugno 2021 abbiamo fatto una serie di scelte poi conseguentemente ai documenti generali abbiamo fatto delle scelte intanto il comune di Nuoro partiva da una situazione con alcuni tecnici molto preparati molto in gamba che però venivano utilizzati fondamentalmente per fare assistenza informatica non per sviluppare una strategia di carattere digitale quindi ci siamo preoccupati di sostenere il processo con la selezione di un responsabile un dirigente responsabile per l'innovazione che poi è diventato anche temporaneamente il nostro RTD abbiamo iniziato a ragionare sulla valutazione delle potenzialità delle carenze abbiamo ragionato insieme anche agli operatori ma per dare loro degli indirizzi i due operatori che già c'erano e ci sono fortunatamente ancora nel servizio di innovazione del comune coinvolgerli nel processo di costruzione di questa nuova cultura abbiamo iniziato a interrogarci sia politicamente che tecnicamente rispetto all'adozione del piano triennale per l'informatica abbiamo adottato una strategia per l'inserimento di nuove figure professionali e il coinvolgimento nella riforma della macrostruttura di tutto il sistema organizzativo badate bene che dal punto di vista dei servizi che venivano erogati allora online praticamente adesso non è che non ci fosse proprio nessun nessun servizio però i servizi erano veramente quasi nessuno quali obiettivi ci siamo dati intanto rendere il comune il migliore alleato dei cittadini e delle imprese con un'offerta di servizi sempre più efficienti poi è il secondo elemento di carattere abilitante anzi probabilmente l'elemento strategico più importante è l'accompagnamento fisico dei cittadini tramite i nostri operatori e poi tramite una strategia di servizio civile che noi abbiamo già avanzato ormai da due anni pensando e facendo una riflessione relativamente alla abilità quindi alle competenze vere dei cittadini all'interno dell'area comunale prima di tutto è vero che lo speed ha preso piede era abbastanza diffuso abbiamo cercato la collaborazione anche con i soggetti operatori poste in primis per cercare di diffondere la identità digitale che è la chiave di accesso se ne è già parlato la realtà è che siamo accorti di due buchi fondamentali il primo è che la diffusione dell'identità digitale non era adeguata e che nonostante un po' di depressioni i soggetti che operavano allora sull'identità digitale non operavano in profondità c'erano ancora delle difficoltà abbiamo pensato quindi di lavorare direttamente sull'erogazione dell'identità digitale ma seconda criticità da risolvere cercando di collegarla sempre all'aumento dei servizi online e quindi ai servizi online che venivano resi disponibili per i cittadini da parte del comune quindi creare una sorta di one stop shop che consentisse man mano penso alla collaborazione con Aspal per il bando Lavoras che in Sardegna adesso lo dico per i non sardi è un bando che dà opportunità sono bandi che danno opportunità di lavoro per persone con disagio persone fragili in generale sotto diversi punti di vista accompagnare queste persone non solo con l'identità digitale ma anche con la capacità di leggere il bando di poter partecipare al bando è stata e continua a diventare per altre opportunità che vengono date una chiave di successo e lo facciamo direttamente tramite i RAO i Registration Authority Officers che sono dei soggetti che di fatto sono abilitati presso il comune a dare direttamente l'identità digitale infine abbiamo lavorato ma queste cose credo che le abbia fatte già vedere David sulla estensione della collaborazione con tutte le tecnologie e servizi esterni e l'estensione dei servizi pubblici online che attualmente quella casistica e tipologia di 26 servizi attualmente ancora in una modalità parallela però ormai vengono erogati tutti online da parte del comune di Nuoro forse me ne sfuggirà uno o due vi ho detto che la collaborazione è stata sia interna quindi l'estensione del lavoro per quanto riguarda i soggetti all'interno del comune quindi sono stati attivati dei team sia per la modifica dei processi di carattere organizzativo sono state fatte azioni di formazione ma soprattutto è operativo già ormai da due anni un servizio civile digitale che coinvolge anche i giovani e che si muove attraverso queste due linee che vedete linea amica con il comune per la cittadinanza digitale e il cantiere per la inclusione digitale l'altro pezzo della cooperazione e della collaborazione è stato progettare insieme a 14 comuni dell'area vasta una candidatura al progetto mediare Next Generation City per un partenariato permanente di connessioni e nuovi servizi abilitanti con 15 comuni dell'area vasta il comune di Nuoro più altri 14 tra gli obiettivi di questa comunità abbiamo messo in prima linea gli obiettivi della transizione digitale stiamo attualmente rilanciando attività di formazione e di affiancamento sulla transizione digitale con tutti i soggetti a dire la verità l'obiettivo più importante dovrebbe essere quello e da questo punto di vista c'è un bel po' di strada da fare ancora di essere consapevoli e qui faccio la seconda volta riferimento all'intervento di Michele Vianello essere consapevoli che sul digitale premia la cooperazione non c'è bisogno di fare duplicazioni triplicazioni dove si può cooperare collaborare ma è un processo è un cammino lungo che noi siamo intenzionati a portare avanti perché siamo convinti che insieme si possano mettere molto meglio le forze per seguire più grandi obiettivi vi do conto di alcuni risultati questi fino all'anno scorso ho messo il grafico perché da un'idea noi partivamo da zero nel 2021 sostanzialmente si è avuto un primo step di 500 istanze online sono arrivate a 3.118 già quasi alla fine del 2022 ed è stato un passaggio molto molto importante questi sono gli ultimi dati che credo siano effettivamente interessanti per una serie di ragioni come vedete intanto gli speed rilasciati direttamente dal comune sono quasi sono 2.571 e quindi i speed rilasciati anche con accompagnamento di servizi sono quasi la metà di tutti gli utenti registrati ai servizi online che peraltro ho tenuto conto che Nuro ha complessivamente 35.000 abitanti sono già quasi 7.000 e vedete la dinamica è stata una dinamica continua e che più servizi dà e più fa aumentare il numero degli utenti registrati così come ormai le transazioni ci sono quasi 3 transazioni a buon fine di pago PA per ogni utente registrato speed sono 16.700 ci sono molte istanze inviate c'è la vera novità della consultazione demografica e soprattutto si è iniziato a lavorare su tutti i servizi con gli appuntamenti online questo ha aiutato molto a rendere più efficiente il nostro sistema va tutto bene tutto a posto no c'è tanto da lavorare ci sono quattro persone adesso perché abbiamo raddoppiato il numero degli operatori diretti che lavorano sull'innovazione digitale ma c'è tanto da lavorare perché la tentazione di tornare al cartaceo magari con qualche scusa per qualche bando per qualche sistema anche noi l'abbiamo avuta ma la realtà è che questo è veramente un ciclo che nel momento in cui si innesca diventa un ciclo virtuoso e nel momento in cui i vari soggetti che stanno anche attorno al comune cooperano può diventare una realtà molto 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 più efficiente grazie grazie dottor Spano e appunto abbiamo visto insomma molto interessante questa suo intervento e che appunto ci dà appunto alcuni focus sulla importanti sono sulla cultura digitale che non è soltanto poi una cultura specialistica tecnica quindi su questo su una cultura diciamo più organizzativa diciamo sicuramente bisogna insistere e sulla strategia e sulla cooperazione soprattutto nel caso appunto dei piccoli comuni questo può essere senz'altro un vantaggio e passerei la parola al dottor Bruno che magari invece ci racconterà la sua esperienza sull' dell'unione dei comuni dell'unione del Fossanese grazie ok grazie buon pomeriggio a tutti ringrazio naturalmente il Fornes ringrazio i responsabili del progetto PAS Piccoli Comuni per questa opportunità per portare la nostra esperienza lo facciamo molto volentieri perché l'ambito dell'innovazione è un ambito in cui crediamo tutti e ci crediamo molto presento soltanto velocissimamente cos'è l'unione e dopodiché passiamo naturalmente a quello che è il compito della mia presentazione cioè quello di far vedere in concreto quali sono i servizi digitali che stiamo iniziando ad utilizzare come lo facciamo come si concretizzano determinati valori che il presidente relatore ha naturalmente anche spesso molto bene e sul quale noi crediamo molto che passino attraverso una concretizzazione di servizi che il digitale ci consente innanzitutto l'unione io condivido un attimo lo schermo dovreste vederlo l'unione del forzanese è un'unione che è nata nel 2004 nell'area forzanese che è l'area centrale all'interno della provincia di Cuneo attorno a un comune che è il comune di Fossano di 24.000 abitanti che naturalmente per aumentare di importanza il territorio e per valorizzarlo al meglio aveva pensato di essere ad accollante su determinati servizi e sarei quindi leader di un territorio collaborando alla pari con tutti i comuni tant'è che nel primo statuto ma che è ancora l'attuale l'importanza del comune di Fossano era pari a quella di qualsiasi comune i comuni attorno andavano da una dimensione di 2.500 3.000 4.000 fino a 1.000 abitanti quindi proprio un'organizzazione così in cui c'era confronto e con cui si andavano a sviluppare determinati servizi dico da subito che l'intenzione sulla quale è nata questa unione era quella di delegare alcune funzioni all'unione ponendole in un ente nuovo un foglio bianco di carta in cui poter riorganizzare su un'area più vasta alcuni servizi che avevano naturalmente molto più senso se venivano organizzati in questo senso nel 2004 i primi servizi erano quelli legati sono stati quelli legati alla biblioteca ai servizi culturali dove già era presente un sistema bibliotecario che copriva tutti i comuni ma un'area ancora più vasta quelli legati alla protezione civile quindi sia a livello di pianificazione naturalmente un aspetto che non copre soltanto un singolo comune quelli delegati alla statistica e quella legata alla formazione da lì in poi l'unione ha cominciato a occuparsi di tematiche molto più pregnanti crescendo enormemente quindi stiamo parlando di unione che aveva 35.000 abitanti al tempo nel 2006 ha cominciato a occuparsi di sicurezza quindi di polizia locale di sicurezza del territorio attraverso una collaborazione a 360 gradi con tutti gli organi presenti in provincia quindi dal prefetto dalle forze di polizia presenti quindi carabinieri di polizia attraverso anche progetti molto importanti che sono stati i primi impianti di videosorveglianza dei comuni ma già nel 2007 con altre competenze relativa alla realizzazione del territorio e quant'altro ha cominciato a occuparsi di innovazione dico innovazione non servizi informatici perché è stata considerata un ambito che nessun comune nemmeno il comune più grande aveva mai sviluppato l'innovazione intesa come naturalmente l'organizzazione dei servizi informatici interni che vuol dire un CED funzionante per tutti i comuni anche per quelli più piccoli dove naturalmente la ridotta dimensione non ha mai consentito la presenza o la creazione di un ufficio CED di un ufficio informatica ma anche innovazione intesa come opportunità per il territorio infatti stiamo parlando degli anni 2006-2008 e in quel periodo molte aziende del territorio non venivano ottenevano posizioni e aree molto allettanti sotto l'aspetto dell'insediamento produttivo ma non avevano per esempio connettività adeguata per supportare la presenza sul nostro territorio delle loro aziende perché già magari alcune necessitano di una banda molto larga in questo senso l'Unione si è subito impegnata con spese proprie e con la collaborazione della regione Piemonte a realizzare un traliccio alto 50 metri che era collegato con una fibra ottica in quel momento naturalmente le spese circa 50.000 euro all'anno di connettività le sosteneva all'Unione poi naturalmente con una collaborazione della regione per fare in modo che su un territorio che è centrato rispetto alla provincia su questo traliccio ci fossero i principali operatori in carri e telefonici che potessero andare a dare banda larga e quindi connettività alle aziende del territorio per non farle naturalmente allontanare questo per dirvi un po' quello che era un po' l'ambito a 360 gradi compreso anche la formazione nel tempo poi questo impegno è cresciuto è cresciuto con una formazione delle varie gradi della popolazione quindi a partire dagli anziani con i giovani al personale e quant'altro e naturalmente l'unione è andata avanti occupandosi in maniera diretta e quindi non più dei singoli comuni di tutti quelli che sono gli aspetti gestionali e tutti quelli che sono i programmi i servizi i contratti cioè diventando un ced unico questo sviluppo ha avuto un enorme incremento a partire dal 2018 quando siamo riusciti a razionalizzare naturalmente tutti i servizi con contratti svolti dall'unione direttamente con i fornitori quindi gestendo tutti i vari contratti omogenizzando tutti i programmi nei vari comuni e soprattutto partendo da quello con un'esigenza passata che era legata a un sistema di videosoveglianza che doveva essere concentrato in un singolo posto in ambienti sicuri per quanto riguarda i server della conservazione delle immagini quindi rispettoso della normativa privacy ma anche della normativa rispetto alla sicurezza informatica l'Unione nel 2018 ha realizzato una rete telematica locale partendo appunto da quel punto che vi ho detto prima di un tralizzo di proprietà dell'Unione alto 50 metri dove attualmente per quanto riguarda la connettività dopo naturalmente gestito insieme con il consorzio Topix è un consorzio un consorzio partecipato della regione Piemonte e dei comuni di tutto tutto il Piemonte è successo che dopo Torino e alla pari di Brea è il punto in cui viene più diffusa la banda larga all'interno della regione Piemonte quindi l'Unione partendo da questo punto ha realizzato una rete telematica su cui naturalmente far passare i dati delle immagini ma anche i dati relativi alla connettività portando l'internet in comuni di piccole dimensioni dove non era sulla base delle caratteristiche di Telecom Italia piuttosto dei vari caratteristiche telefonici non era presente una banda larga sufficiente a creare un sistema di cloud l'Unione velocemente ancora per darvi una descrizione ha naturalmente dal 2018 per gli uffici dell'Unione e poi per tutti i comuni portato in cloud tutti i comuni quindi naturalmente staccando quello che sono collegamenti dai vari server locali quindi ponendo già un primo passo rispetto a quello che sono gli obblighi naturalmente gli enti locali di passare nella soluzione cloud e successivamente attraverso un impegno che nessun comune era in grado di sostenere da soli nominando un responsabile della transizione digitale che naturalmente è stato in grado nel sottoscritto per gli ovvi motivi legati alla parte CED cominciando a lavorare e portando in pratica il coso il scusate sono secondo portando in collegamento portando praticamente le 55-60 postazioni dei vari comuni come utenti di un servizio quindi i comuni nei confronti dell'Unione sono dei semplici ogni postazione presente nei comuni e sto dicendo che sono circa una sessantina sono naturalmente postazioni in cui i comuni hanno soltanto un servizio in questo ambito abbiamo sviluppato molto anche quello che è la modulistica per noi comuni di questa zona dove naturalmente il personale è sempre stato molto limitato dove le detenimenti tutte le parti burocratie sono aumentate a dismisura per noi era fondamentale andare a sviluppare la parte della modulistica online perché non avendo possibilità di aumentare il personale con i soliti limiti di bilancio presenti negli enti locali riuscire a diminuire e rendere informatici i procedimenti vuol dire di occupare meno tempo e cercare in qualche modo di superire tutto questo con naturalmente le personale che avevamo in questo senso in particolare con il nostro fornitore quello che vedete è il sito dell'Unione abbiamo iniziato a sviluppare quello che è lo sportello digitale del cittadino lo vedete qua nella home page dell'Unione del Fossanese per le competenze che ha l'Unione del Fossanese e le competenze che ha l'Unione del Fossanese lo potete vedere da queste parti qua sono molte quindi sono la polizia locale e amministrativa quindi tutta la parte autorizzativa la centrale unica di committenza la statistica la protezione civile intesa come gestione completa della protezione civile quindi i piani di protezione civile quindi tutta la parte cartografica anche digitale catastro discorsione di tributi la formazione del personale altri servizi il sistema informativo le biblioteche la tutela paesaggistica ed in ultimo dall'anno scorso anche lo sportello unico dell'attività produttiva quindi qui la necessità di svolgere la funzione del SUAP attraverso una modulistica che fosse completamente online tutto questo l'abbiamo in gran parte lo stiamo realizzando e nanogamente lo sta avvenendo nei vari comuni attraverso una modulistica che si trova nello sportello unico digitale credo che possiate vedere questa qua è la parte interna naturalmente dello sportello unico digitale come vedete è realizzata per aree tematiche quindi c'è una parte legata all'attività produttive una parte legata all'edilizia paesaggistica una parte legata l'abbiamo calibrata un po' rispetto a quella che è la nostra utenza una parte legata a fiere e mercatini tematici perché c'è una grossissima utenza sotto questo aspetto perché in una realtà nel Comune di Venevagenna ci sono in tutti i comuni fiere di notevole dimensioni ma in particolare nel Comune di Venevagenna ci sono cinque appuntamenti di un mercatino dell'usato di notevole dimensioni che raggruppa circa 300 o 400 espositori ed è esattamente quello che poi vi farò vedere poi naturalmente aspetti legati alle manifestazioni spettacoli e alla polizia locale nella parte attività produttive che io adesso vi apro vedete che eh all'interno di questo fatto in maniera molto molto semplice per noi attivi ci sono tutte le pratiche relative alle attività produttive quindi qualsiasi eh persona privata imprenditore piuttosto che consulente di un imprenditore che naturalmente ha l'accesso con lo sfido con CIE può naturalmente entrare in questa parte ed andare a vedere quello di cui naturalmente ha necessità se le scorriamo un attimo ce ne sono tantissime sono tutte le parti relative ad esempio questa parte qua eh acconciatore e semplicemente le autorizzazioni che una un privato che vuole aprire un'attività di acconciatore dovrebbe naturalmente ottenere andando all'interno della parte vedete come è strutturata all'incirca la modulistica eh innanzitutto c'è una parte descrittiva in cui si dice qual è l'attività che in questo modo può essere naturalmente autorizzata quindi in questo senso c'è anche un'estensicazione di quello che sono un po' i valori che la pubblica amministrazione deve avere che deve naturalmente riportare a prescindere da quelle che è naturalmente la dimensione e l'organizzazione quindi a prescindere da quello che è la dimensione del comune siamo tutti cittadini e quindi dobbiamo essere tutti informati di quelli che sono i nostri diritti i nostri doveri in questo senso c'è naturalmente una descrizione di quello che sono eh di qual è la necessità di cosa si può ottenere con questa modulistica questa dopodiché all'interno di questo c'è un'attività di modelli dove naturalmente aprendoli si va all'interno della della modulistica e dei moduli da compilare a fianco voi vedete che c'è naturalmente tutti i riferimenti normativi che vengono citati e aggiornati e in ultimo le varie possibilità naturalmente di presentazioni eventuale onere o diritti da pagare i ricorsi in tutela amministrativa giurisdizionale e altre attività in cui possono eventualmente gli interessati si possono rivolgere tutto questo non è realizzato da noi perché naturalmente nessun comune così come già in passato vi ho detto poco fa era naturalmente in grado di allestire un CED quindi un servizio informatico che naturalmente gestisse in maniera adeguata e sempre più evoluta i servizi informatici naturalmente nessun ufficio è in grado di gestire e tenere aggiornato una modulistica del singolo ufficio perché veramente ci sarebbe solamente solo da passare il tempo per consultare gli aggiornamenti e naturalmente compilare e tenere aggiornati questa modulistica questa modulistica è naturalmente tenuta aggiornata dal nostro fornitore con cui abbiamo a cui abbiamo fidato la creazione di questo sportello digitale e questo ci garantisce naturalmente l'aggiornamento costante rispetto della normativa e dare naturalmente dei servizi di qualità all'altezza di quelle che sono anche le richieste normative che abitualmente dobbiamo fare quello che io vorrei farvi vedere è per un esempio pratico perché poi queste cose qua soprattutto a livello di transizione digitale sono molto stratte quindi naturalmente è importante vedere la realizzazione pratica l'esempio pratico è in quest'area qua come vedete questo è un'area che abbiamo anche dato opposto perché abbiamo un'altissima utenza pensate che quando c'è un mercatino dell'antiquariato fino a poco tempo fa quando non avevamo ancora realizzato un centrale di Novoip e avevamo ancora non riuscivamo ancora a gestire in maniera adeguata l'utenza telefonica adesso l'abbiamo regolata con orari con registrazioni con altre cose e per 15 giorni avevamo continuamente persone che ci telefonavano e questo impediva chi era a rispondere naturalmente al telefono di poter continuare l'attività ordinaria in questo modo noi abbiamo messo all'interno di un centralino telefonico in VoIP quindi anche qui seguito da noi per gli aspetti digitali messo come punto primo punto del menu vocale un menu che rimanda agli eventi lo potete fare se selezionate naturalmente il numero dell'ente in cui in questo momento non ce ne sono quindi non ascoltate nulla ma come primo punto rimandiamo al fatto che è in programma il prossimo fine mese di aprile una manifestazione che si chiama Augusta Antiquaria e dove possono l'utenza telefonica in questo caso può andare e indichiamo naturalmente il nostro sito e indichiamo queste pagine qua in cui possono essere diretti naturalmente le persone su questo sito in questa tematica legata a fiere mercatini c'è appunto una modulistica che riguarda naturalmente le fiere in questo caso la prima si chiama così della Beata Paola una fiera che è stata fatta a gennaio e poi naturalmente ci sono tutte le altre ma c'è naturalmente una cosa che chiunque partecipi a un mercatino dell'antiguariato nella regione Piemonte deve naturalmente presentare che è una manifestazione di interesse alla partecipazione quindi entrando all'interno di questa parte qua noi andiamo a dire che chiunque vuole partecipare a un mercatino antiquariato deve manifestare con una domanda scritta il suo interesse a partecipare per creare un elenco di partecipanti i partecipanti solitamente sono coloro che hanno licenze per la vendita su aree pubbliche ce ne sono diversi ma sono minoritari sono moltissimi obbisti e poi ci sono ancora alcuni casi particolari quindi noi qui abbiamo che fare ogni volta che c'è un evento con 300 persone quindi noi abbiamo pensato di naturalmente ma questo è stato fatto non solo per noi ma per tutti coloro che per esempio nella provincia o nella regione utilizzano questo software di questo sfornitore una pagina in cui sulla destra sono riportati i riferimenti normativi ma anche la normativa regionale in questo caso stiamo parlando di un evento regolato anche dalla normativa regionale e poi una descrizione di quello che è necessario naturalmente avere per partecipare a questi mercatini e di come deve essere presentata la modulistica siccome in questo caso abbiamo molte volte persone anziane piuttosto che persone che arrivano da mondi completamente diversi dalla pubblica amministrazione o anche da uffici amministrativi di privati la difficoltà era quella di fare in modo che avessero accesso con speed che cominciassero utilizzare questi strumenti quindi noi avendo già in passato per questi 400 300-400 partecipanti abituali raccolto i numeri di telefono abbiamo creato naturalmente un gruppo di sms con il quale informarli lo facevamo già da tempo da almeno dieci anni questo con dei messaggini in occasione di questi eventi noi facciamo uno short message e un link accorciato di quello che è la pagina lo mandiamo sul gruppo degli sms quindi questi dal telefono possono abitualmente entrare su questa pagina del nostro sito in questa pagina oltre alla descrizione notano naturalmente la guida alla compilazione che una volta cliccata dentro la potete vedere l'abbiamo creata apposta riporta naturalmente a partire del sito i vari passaggi che loro devono fare per andare a compilare la domanda di manifestazione di interesse con l'autenticazione con lo speed i vari passaggi che poi trovano dopo e quindi i vari passaggi in cui all'interno di questa parte qua vanno a fare la domanda di manifestazione di interesse che voi vedete qua e soprattutto la possono naturalmente firmare e inviare a noi ma adesso ve le faccio scorrere in maniera molto veloce non so se riuscite a vederla naturalmente con indicazioni per la compilazione questo è il modulo principale digitale che sta che loro compilano di volta in volta per andare al termine in cui naturalmente completano la compilazione e alla fine inviano firmandola attraverso speed quindi abbiamo creato questo modulo dopodiché tornando naturalmente alla nostra modulistica possiamo posso provare a farlo direttamente con voi questo è il come vi ho detto prima qui sotto abbiamo tutte le modalità di presentazione cos'è l'istanza i requisiti che devono avere coloro che lo fanno per informarli su quello che è la dichiarazione che in questo momento loro faranno firmandola con lo speed quindi uguale a una dichiarazione con un'autocertificazione naturalmente quello che vi dicevo prima relativa alle varie informazioni tutela tutela amministrativa giudizionale andando nella manifestazione di interesse si entra in un'ulteriore pagina dove ci sono i modelli in due vesti quello del pdf stampabile che noi però adesso è attivo però terremo bloccato in modo tale che almeno fino proprio a ridosso della manifestazione tutti siano obbligati ad entrare con speed e poi naturalmente la parte dove si compila con speed questo porta naturalmente a un accesso con speed che io provo a fare direttamente così lo vedete in cui naturalmente lo sto facendo con voi si entra nella parte naturalmente interna si individua naturalmente il comune si mette quello che la domanda quindi domanda di partecipazione augusta antiquaria si procede con la compilazione e naturalmente qui arriva la modulistica che adesso non vi sto a compilare però che ad oggi riporta alcuni campi naturalmente non l'abbiamo ancora aggiornata a quelli che sono naturalmente degli ultimi adempimenti agili quindi tutti quelli che i dati che sono in possesso della pubblicazione con lo speed hanno naturalmente essere portati avanti io non lo compilo altrimenti diventerà lunghissimo in questa parte naturalmente seleziono se hanno un tesserino che è requisito per essere obbisti quindi ogni comune ha rilasciato un tesserino come obbista quindi ne mettono la data il numero e l'autorizzazione oppure un'autorizzazione amministrativa selezionano le date quindi mettiamo tutte per esempio che sono quelle di quest'anno si impegnano descrivono qual è naturalmente gli oggetti che mettono in vendita vanno avanti alla fine adesso non lo faccio arrivano fino a un certo punto in cui naturalmente convalidano tutto e procedono e la firmano questa modalità qua non è solo un modo semplice per fare in modo che le persone lo possono fare quando vogliono di giorno di sera e naturalmente si erogano più gli uffici ma è la modalità col quale poi all'interno del nostro programma arrivano i dati quindi i dati arrivano all'interno del programma del nostro fornitore vanno a compilare il foglio di presenza della manifestazione e siccome quel giorno gli obblighi nozzi sono quelli naturalmente di controllare chi è sull'area mercatale mi sto dicendo che riguarda un'intera città di centro storico una città di 4.000 abitanti chi è sul mercato quindi i colleghi operatori di polizia locale che vanno sul mercato hanno già un elenco di quelle che sono i partecipanti e naturalmente riescono naturalmente a controllarli a autenticare perché è stato fatto ancora in forma cartacea le autorizzazioni la noma della regione Piemonte non ha previsto una parte digitale immagino che il futuro lo sarà bidimano queste autorizzazioni con al massimo possono avere 18 possibilità di partecipazione all'anno e poi noi al termine della manifestazione sulla base di quelli che sono gli effettivi presenti perché non possono magari non corrispondere esattamente con quelli che ha fatto domanda quel giorno piove quindi non è molto bello infatti si farà qualcuno in meno dovremmo poi dovevamo noi inizialmente mandare questo elenco nella regione Piemonte perché poi andrà parte di un elenco che veniva inviato alla gestire delle entrate perché naturalmente gli obbisti sono tutte persone che dichiarano di ottenere da questi lo fanno in maniera darbista e quindi dichiarano di avere un guadagno inferiore ai 5.000 euro ecco tutti questi riempimenti che noi prima facevamo con carta con mille difficoltà in questo momento sono stati digitalizzati quindi la possibilità da un lato dei cittadini di ottenere un servizio molto semplice dall'altro quello di semplificare la vita nostra interna e dedicare meno tempo questo è un esempio che secondo me secondo noi concretizza pieno quello che sono le possibilità che potremmo fare e i benefici che potremmo avere quindi naturalmente dare servizi che siano naturalmente informati trasparenti che citino naturalmente normativa che quindi valorizzano comunque quello che la pubblica amministrazione deve fare un servizio naturalmente a misurizio efficiente un servizio che comunque alla fine consente a chi è in ufficio soprattutto in periodi come questo dove naturalmente la compilazione di banche dati di ogni di ogni genere tipo aumenta dismisura e il personale non ce n'è completare tutto questo passaggio e naturalmente arrivare ad avere noi un servizio che sia all'altezza dei tempi quindi questo è un po' l'esempio che vi ho portato e quindi non lo so io mi fermerei qua perché eravamo quello penso che che c'eravamo un po' un po' detti grazie grazie dottor Bruno e appunto di averci mostrato insomma nella nella concretezza una una bella esperienza insomma che appunto insieme si può fare e credo che diciamo oltre a dei fornitori bravi mi pare dietro ci sia tanta consapevolezza diciamo e tanto e tanto lavoro e tanta passione insomma da parte da parte vostra insomma quindi mi sembra che sia proprio un ottimo esempio insomma per tutti i partecipanti a questo a questo webinar vi dico diciamo soltanto che la prossima il prossimo vi condivido lo schermo per darvi l'appuntamento oggi ho qualche difficoltà e il prossimo appuntamento sarà per appunto il 20 di aprile e appunto ci sarà un altro webinar sulla gestione documentale e questi sono diciamo i nostri vi manderemo al solito gli inviti vi daremo comunicazione attraverso una notizia sul sito appunto e sulla nostra pagina del focus tematico del sito formez territori rete e questi i nostri contatti diciamo per qualunque comunicazione e vi ringrazio di essere insomma stati tutti quanti insomma fino alla fine siamo andati anche un po' oltre il tempo previsto grazie a tutti e alla prossima